Stiamo sfiorando il ridicolo. Fratelli d'Italia e Lega stanno litigando, individuando chi è responsabile delle nuove tasse sugli agricoltori. E questo con i trattori che stanno per strada. Ma è molto semplice. La responsabilità è la loro, sia della Lega e sia di Fratelli d'Italia, perché loro hanno ristabilito l'IRPEF e gli agricoltori, hanno abbassato le decontribuzioni per i giovani imprenditori agricoli e loro sono intervenuti anche a smantellare completamente i crediti d'imposta di transizione 4.0. Le nuove tasse sono imputabili direttamente al Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, e al Ministro del Tesoro, Giorgetti. Lega e Fratelli d'Italia non andassero a cercare colpevoli altrove. L'avevamo detto, questa è una legge di bilancio che crea nuove tasse, e adesso sono gli agricoltori, domani saranno le persone con disabilità, dopodomani sono i pensionati, tutti si accorgeranno, tutti gli imprenditori con la nuova tassa anche per quanto riguarda gli obblighi assicurativi per rischi catastrofali, tutte le categorie, tutte le famiglie, tutti gli imprenditori si accorgeranno progressivamente delle nuove tasse e dei nuovi tagli.